la crisi ucraina e la tragedia umanitaria cresce di giorno in giorno banca mediolanum torna a parlare ai risparmiatori con il secondo appuntamento di uno sguardo al futuro dal teatro verdi di padova con l'intervento di voci autorevoli del mondo della docenza dell'imprenditoria e della finanza un evento per fare il punto della situazione sugli impatti della guerra sull'economia reale e sui corretti comportamenti da adottare con i propri risparmi in diretta streaming sui canali social di banca mediolanum mediolanum play.it e class cnbc 29 marzo ore 19 45 la giusta informazione per pensare al domani grazie a tutti grazie a tutti